Buon mercoledì 13 dicembre a tutti, sono le 9.57 e siamo partiti forti con una bella candela verde seguita da una rossa, seguita da una verde, seguita da una rossa che sta diventando verde quindi bella partenza di spinta ma poi finte e controfinte perché qui sembrava che si volesse iniziare veramente a scendere in maniera pesante stiamo sentendo la media mobile a 200 periodi la cosa che però mi preme ricordarvi è che questo venerdì succede una cosa importante ecco perché facciamo più fatica già da inizio settimana a fare trading ed eventualmente anche a provare determinate scalpate a parte i tanti impegni il discorso è uno, ci sono dei movimenti di un determinato tipo che vengono riassorbiti, vedete qui alle 14.30 c'erano dei dati ieri, oh yes, finta di salita riassorbita completamente dopo che sono stati dati i dati ma non è questo il motivo per cui vi dico di fare più attenzione non è per le continue finte discesa, molto forte, che sembra di accelerazione, risalita forte minimi molto vicini da dove sarà partito il quarto di meno 3? questo è facile, basta andare a controllare in ogni caso il discorso è che ormai mancano due giorni alle tre streghe vi ricordate cosa sono le tre streghe, vero? adesso iniziano a chiamarle anche quattro streghe come il quadruple watching degli Stati Uniti adesso non riesco a pronunciarlo bene perché sono ancora un po' preso stamattina da tante altre cose in ogni caso questa è la settimana in cui ci prepariamo il venerdì a cambio di contratti quindi scadono i vecchi contratti su future opzioni e tutto quello che volete e prima o il giorno stesso che cosa si fa? se si vuole mantenere la posizione si mantiene lo stesso anzi, si mantiene lo stesso tipo di contratto ma si vende la vecchia scadenza per arrivare ad una nuova e quindi se vendo 10 future e ne compro altri 10 i volumi come strumento che mi possono servire per muovermi vanno a farsi benedire quindi bisogna fare estremamente attenzione questo venerdì a che cosa faremo e mediamente la regola è una per evitare di perdere soldi non fare assolutamente niente per questo motivo il suggerimento è fate molta attenzione in questi giorni riducete eventualmente le operazioni di trading se non ce ne sono di chiare e i vincoli arrivano magari in maniera stramba o differente rispetto al solito anche qui sì sì vincolo ok ma si poteva pensare che sul MIB si fosse arrivati a 42 bar qui abbiamo un movimento similare che però si vincola poi supera i massimi sono già cose che per chi è pratico del mercato iniziano ad essere strambe ok? ce l'aspettiamo perché intanto si parla di tre streghe però ecco bisogna esercitare una di quelle cose che non piace molto alle persone e che si chiama pazienza dovremmo tutti imparare l'arte della pazienza perché ogni cosa ha il suo tempo dice Vera Santoro sì esatto il trading ha il suo tempo bisogna esercitare quella che tanti non vogliono esercitare ovvero la pazienza di andare a cogliere il miglior trade con i migliori punti di inverso su MIB siamo arrivati a 32 barre durata media qui possiamo già aver avuto su questo massimo la chiusura da dove è partito il nostro quarto T-3 lo indicherò ovviamente nel gruppo premium iniziamo a fare anche gli aggiornamenti al grafico così ce l'abbiamo sempre perfetto pulito è pronto a che cosa faremo noi noi vedremo che quando ci sarà la chiusura del nostro quarto T-3 valuteremo se eventualmente fa una scalpata short perché sappiamo che il movimento principale è long a rialzo e stiamo cercando di capire se non voglia di superare questa media mobile oppure no per far partire appunto il quarto T-3 e avere poi un long più pulito ovvero attenderemo eventualmente se ci darà un chiaro segnale di short di breve periodi poi eventualmente reverseremo immediatamente long perché? è perché noi abbiamo un settimanale vincolato a salire settimanale di inverso vincolato a ribasso significa che si sale come prezzi ma non entriamo adesso long mentre può essersi appena chiuso il quarto T-3 e possiamo andare a scendere per far partire il quinto attendiamo ovviamente il momento più propizio anche perché su MIB come vedete altre strade non ce ne sono da qui è partito il quinto T-3 inverso 1, 2, 3, 4, 5 tutto vincolato a rialzo continueremo ad andare a salire potremo salire serenamente anche verso i 660 30.660 eccetera e mi piacerà poi farvi vedere che cosa c'è da questa parte d'accordo? perché questi livelli di MIB era da parecchio tempo che non li vedevamo più ma proprio parecchio tempo vi ricordate da quanto tempo? perché io ce l'ho estremamente chiaro e so perfettamente dove ero in banca in quei periodi lì in cui dicevo caspita sta sprofondando tutto chissà quando ritorneremo a testare i 44.000 e siamo a 30.000 dopo parecchi anni per quanto riguarda il DAX sul DAX stiamo aspettando la chiusura anche in questo caso del quinto T-3 inverso abbiamo avuto anche in questo caso come avete visto candela si di lap up ma rossa poi piccola verde poi finta di rialzo rossa poi fortissima verde la penultima e adesso di nuovo rossa quindi tante belle finte a cosa sono dovuti questi movimenti? vendo la vecchia posizione compro la nuova posizione vendo la nuova posizione compro la nuova posizione e in continuazione se devo scaricare size enormi di future che mi servono per l'edging oppure no future opzioni eccetera azioni e io ho bisogno di in continuazione di fare su e giù su e giù su e giù vendo la vecchia posizione compro la nuova posizione vendo la nuova posizione compro la nuova posizione vendo la nuova posizione compro la nuova posizione in continuazione ecco perché abbiamo tante candele di salita discesa discesa salita discesa salita e qui tanta lateralità perché non si riesce a fare tutto l'ultimo giorno altrimenti avremmo delle barre devastanti durante le tre streghe e quindi bisogna continuare a farlo anche durante i giorni precedenti alle due streghe che quindi sono più difficili se vogliamo fare training da qui siamo arrivati alla trentatresima barra può iniziare la trentaquattresima o un sesto t-3 inverso aspetteremo che si vada a chiudere il quarto t-3 per posizionarci long qui è molto semplice come discorso qui possiamo aver chiuso a 20 barre il nostro il nostro indice no minimo 21 qua abbiamo fatto 691 691 73 75 questa non conta quindi potremmo averlo chiuso qui forse qui ok quindi per sicurezza comunque un punto di domanda ve lo metto ma mi aspetto nella realtà dei fatti ancora un po' di discesa magari un ritorno verso la media mobile a 50 periodi in rosso per valutare se ci sono gli estremi per andare long il DAX sarà più semplice da tradare oggi anche perché continuiamo a essere vincolati anche in questo caso a continuare a salire e se guardiamo il grafico giornaliero siamo a partire da qui abbiamo fatto 1 2 3 4 la quinta che non si vede oggi ci serve almeno una sesta di salite quindi anche in questo caso potremmo avvicinarci serenamente ai 16.880 se non 17.000 ormai siamo sparati verso la salita e anche qui di inverso se vogliamo raggiungere almeno un semestrale inverso di durata lo abbiamo fatto oggi è la 97esima barra su minimo 96 quindi chi conosce bene l'analisi evoluta sa di che cosa può succedere se non facciamo una poca discesa per continuare a salire diventa una situazione che poi chiuso persino un semestrale di inverso sapete che cosa può iniziare non sapete di che cosa sto parlando venite sul mio canale di youtube e se non si ingarbuglia andate nella zona playlist e fatevi il corso che si chiama trading days ok direi che è tutto vi ringrazio per il vostro tempo abbiamo già pianificato come vedete le possibili operazioni a partire da DAX in avanti attendiamo che arrivi il momento più propizio per rimetterci i long e facciamo attenzione a che cosa questa volta che cosa c'è di bello oggi in programma abbiamo alle 14.30 l'IPP e le scorte di petrolio greggio alle 16.30 ok quindi alle 14.30 occhio a rimanere dentro il mercato perché si rischia di farsi male o di subire delle belle finte finte di salita e di vincolo di inverso discesa ok vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché ho già deciso così influenzerete anche voi gli altri per avere una buona giornata o li subirete e avrete una pessima giornata a voi la scelta arrivederci grazie a tutti